Sì, ci siamo qua, guardate che cielo, ovviamente è il telefono che corregge il colore, perché non è realmente così, però, dai, guardate qua, la Superbike, la Black Snow Kill Bill, la Dragoon, allestimento mio, Kill Bill, la Black Snow, Dragoon, Kill Bill, 11 kg di bicicletta da turismo e da avventura, titanio, acciaio inox, acciaio sabbiato e acciaio a cromo, eccoci qua, pedali in titanio, come chiama abbiamo un SRX G12 Pro della Senza, ovviamente qua abbiamo uno DC Venture Max Classic, questo è un Viper, qualcosa, questo è fatto a Taiwan, acciaio inox, abbiamo i freni da Zoom, ibridi, Big Stack, pedali in titanio, crankset Pro Wheel, porta borracce, ovunque, borse della Rock Bros, sella della BRN, qua altri particolari in titanio, e ovviamente i cerchi della Passac, modello Loca 27.2, con delle coperture favolose della Innova Pro Transformer 2.225, adesso ragazzi vi lascio perché dovevo fare in fretta, oggi non riesco a fare una sessione molto, molto lunga perché devo andare a una visita anche oggi, guardate lo scenario, guardate che spettacolo le montagne qua, guardate che spettacolo, guardate là, là si va verso la Valpolicella, là si va verso il Bussolingo, e qua si va verso il Lago di Garda, questa è la ciclabile, ci vediamo al prossimo video, vi aggiorno, ciao!